buongiorno buongiorno a tutti ciao a tutti ciao ciao a tutti ringraziamo il Sanzeno per le persone che ci ha fatto conoscere grazie tutto Sanzeno alla comunità salesiana per avermi fatto trovare una casa una seconda famiglia voglio ringraziare tutti i professori tutti i salesiani e tutti i miei compagni che hanno contribuito a rendere fantastici questi tre anni il Sanzeno è un ambiente che fin da subito ti sprona a trovare il meglio di te e a saperlo applicare nei migliori modi sia per il tuo futuro sia per te stesso ma soprattutto anche per tutti quelli che ti circondano ringrazio i salesiani per la loro accoglienza e disponibilità volevo ringraziare tutti i professori che sono sempre stati disponibili mi hanno fatto crescere come studente dandomi delle basi di cultura che mi serviranno per i miei percorsi futuri e mi hanno fatto crescere soprattutto come persona trasmettendomi valori insegnamenti di vita molto importanti volevo ringraziare la scuola in primis e anche tutti i miei professori per avermi fatto crescere e sentire una persona speciale con limiti e difetti volevo ringraziare tutti i miei compagni e amici per aver reso questa esperienza meravigliosa potuto conoscere moltissime persone veramente ho fatto amicizie che credo che dureranno per sempre ringrazio la scuola e il professore per questo mio cammino formativo per avermi insegnato durante questi cinque anni non soltanto tutte le competenze tecniche ma anche tutti quei valori spirituali caratteristici degli insegnamenti di don bosco che non dimenticherò mai mi ricordo quando ho 14 anni per la prima volta ho marcato il fortone scolastico che portava con me molte paure dubbi perplessità ma alla fine tutte superate per fortuna don bosco la scuola salisiana si è messa in gioco con me e quindi ovviamente sono cresciuto mi ha regalato le amicizie migliori che potessi avere in questo periodo per le esperienze che ho vissuto per le persone che ho incontrato per le cose che ho imparato e che hanno segnato chi sono oggi il trovarsi per studiare insieme condividere le emozioni e le ansie di poter passare il tempo con i compagni professori avevamo fatto capire che la scuola non è solo un luogo di studio ma un luogo di vera formazione dove far crescere il proprio cuore e dove poter coltivare liberamente le proprie passioni e le proprie amicizie per la grande capacità di fare scuola e soprattutto per la crescita che ho avuto a livello personale in questi cinque anni per avermi fatto partecipare a molte attività e di essere stati come una famiglia per me a loro sono molto grato per essere stati un punto di riferimento non solo a livello scolastico ma anche a livello morale e spirituale questi cinque anni passati insieme per tutte le esperienze fatte per tutti gli insegnamenti dati tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo periodo di vita e che mi hanno sempre aiutato e sostenuto anche a don bosco per avermi accolto da ragazzo cresciuto e soprattutto reso un uomo per avermi dato la possibilità di crescere all'interno della scuola in questi sei anni e oltretutto di avermi dato la possibilità di sviluppare le mie passioni grazie salesiani è stato un anno indimenticabile per avermi sostenuto nei momenti difficili una formazione che certamente non finirà oggi ma che andrà avanti per tutta la vita quindi volevo ringraziarvi di cuore perché in questi cinque anni mi ha aiutato a crescere e a maturare questa non è una scuola come le altre non più si pensa a tirar fuori lo studente e farlo promuovere si pensa come farlo crescere come persona ma soprattutto come uomo facendo diventare un grande uomo o una grande donna per questi tre anni passati insieme e anche per avermi permesso di vivere a cinque anni di scuola superiore in un ambiente molto molto positivo per come mi ha sostenuto negli ultimi anni spero che anche in futuro per tutte le persone che verranno nella nostra scuola potrà essere un percorso bellissimo come l'è stato per me quindi davvero grazie grazie salesiani su di loro so che posso sempre contare grazie grazie a tutti quanti grazie grazie veramente grazie grazie al sanzeno l'unica cosa che posso dire è grazie grazie al sanzeno grazie ragazzi fatevi coinvolgere dai vostri educatori e professori ne vale la pena buon cammino regalo alla gioventù siete tutti i ladri ragazzi miei non ho più il mio cuore ce l'avete voi ma non mi interessa da quest'oggi in poi ogni mio respiro sarà per voi ciao